Per festeggiare il primo anno di attività di Tiziana Showroom, Tiziana Morresi, il suo showroom umica qui a Civitano Marche per questo appuntamento dopo un anno di successi, praticamente un evento natalizio con tanti ospiti a partire da Marta Purra, la sua voce, con il nostro Sandro Parigi che ha organizzato un mini raduno di auto, tanti protagonisti che andremo a sentire proprio nel corso di questo pomeriggio. Dopo un'estate in giro per tutte le piazze della nostra provincia, Tiziana Morresi ci ha portato nel suo showroom qui in Via Veniera per farci conoscere più da vicino questa realtà umica, Tiziana. Sì perché vogliamo farvi vedere da vicino la qualità e l'eccezionale di questi prodotti. Prodotti particolari che visto che siamo in tema natalizio, ottimi regali perché sono 100% made in Italy con delle particolarità, ce lo voglio illustrare? Sì, i profumi per esempio sono fatti con arco e buon gusto ed essenza pura, quindi non c'è nessun chimico, lavachimica, niente, 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 nulla. E poi sono a costi di fiori perché c'è un 100 ml di profumo, 28 euro. Quindi diciamo per il regalo natalizio è l'occasione da non perdere qui da Tiziana Showroom che però non si limita soltanto a profumi perché abbiamo visto la nostra modella che poi è stata truccata. Che cosa troviamo all'interno di questo showroom Tiziana? Stiamo mandando delle luci da molti profumi, trovate creme, creme per corpo, per viso, una linea aloe, poi profumi per bimbi, shampoo e pazzo, una linea anche della casa con sempre tutto faranzato. E poi la nostra chicca è il make-up che è stato fatto dal grande e famoso make-up artist Fabio De Stefano e anche questo è tutto mio, tutto naturale, anche perché è stato fatto proprio per noi. Un'ultima cosa, un ringraziamento al presidente nazionale, abbiamo sentito radiofonicamente proprio in questi giorni, lo vogliamo salutare e ringraziare. Sì, io lo devo ringraziare per tutte le parole bellissime che ha detto su di me e sullo showroom perché è una persona eccezionale perché in unica noi ci sentiamo come una grande famiglia. Ricordiamo il nome del presidente? Presidente è Costantino Topiano. Vi ricordiamo per concludere dove troviamo Tiziana Showroom e Arcivito della Marche e come per arrivare appunto a trovare Tiziana Showroom. Tiziana Showroom si trova in via venire al 78 dietro cinema Capitol, zona foto espina. Vi aspettiamo, mi raccomando, per il vostro Natale il profumo di Tiziana. Ospiti di questo showroom, in questo appuntamento natalizio, alla mia sinistra Sandro Parigi, amico dei grandi eventi estivi e Massimo Vesprini. Sono piloti amatoriali chiaramente di raduni di auto d'epoca. Oggi sinergia con Sandro Parigi, con Tiziana Showroom per questo appuntamento. Certo, quando Tiziana chiama noi siamo tutti amici quindi interveniamo subito anche con un piccolo esposizione di auto d'epoca fuori, giusto per agruppare le più importanti marche che noi abbiamo partecipato anche alla settima, ma sempre nel corteo storico preppi a pista di gara, quindi ci divertiamo in questa maniera in tutta Italia a fare i grandi cortei di auto d'epoca storica. E con Sandro c'è Massimo Vesprini, ovviamente oggi insieme a Sandro per questa ricorrenza importante natalizia che ci invitano a Marche con Tiziana Morresi Showroom. Sì, ci siamo trovati qua insieme a Costanto, abbiamo trovato degli amici a partecipare in inaugurazione di questo negozio e a fine settimana ci direttiamo con le auto a fare i raduni così. Grazie mille, poi ovviamente Donne in Motori va sempre benissimo, qui si parla di bellezza, si parla di profumi ed è perfetta questa accoppiata. Io vorrei ringraziare anche Marco Moscatelli che è sempre presente, mi vede sempre agli eventi più importanti nella regione Marche. Grazie a voi, buonasera. Grazie Marco, grazie. Manuela Liberti è stata oggi testimonia per quanto riguarda il make-up Umica, truccata dai professionisti all'interno dello showroom Tiziana Morresi. Come ha giudicato Manuela questi prodotti Umica? Sono prodotti antiallergici, non contengono paraffina, sono prodotti ottimi. Sono prodotti che consigliere si vede a tutte le donne che vogliono farsi truccare con sicurezza. Sì, io li consiglierei. E questi chiaramente sono i prodotti Umica. Manuela Liberti è stata oggi, non contengono per quanto riguarda il make-up Umica. E siamo giunti alla conclusione di questo pomeriggio natalizio immersi nei profumi di Tiziana Morresi Showroom, prodotti Umica che hanno regalato oggi a tantissimo pubblico giunto qui in Via Venere 78 a Civitano Amar anche delle emozioni veramente profumate. Dallo showroom Umica di Tiziana Morresi è veramente tutto. No, come sempre, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!